Incidente sull'autostrada A9 in direzione svizzera all'interno della galleria Sanfermo che in questo momento è a doppio senso di circolazione a causa dei lavori in corso nell'altro tunnel. Lavori ripresi della giornata di ieri e già molto impattanti per quanto riguarda la viabilità. Coinvolti nello schianto, avvenuto poco dopo le 8, un'auto e un furgone all'altezza del restringimento di carreggiata a causa appunto del cantiere. La dinamica è ancora da chiarire. Coinvolte due persone, un uomo e una donna, entrambi 29 anni, feriti e trasportati in codice giallo e verde, quindi media e lieve criticità, all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia per accertamenti. Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso, difficile anche per i soccorritori arrivare sul posto, in direzione svizzera il traffico è stato interrotto, pesanti le ripercussioni sulla viabilità in autostrada con code fino a 5 km tra Fino Mornasco e Comomonte Olimpino e colonna tra Chiasso e Comocentro. Inevitabili le ricadute sulla viabilità ordinaria, mezzi bloccati all'azzago all'altezza della rotatoria che porta all'ingresso in autostrada, presenti gli agenti della polizia locale, e poi rallentamenti nella zona di Camerlata e in via Napoleona, disagi pure a Sanfermo con le auto indirizzate sui percorsi alternativi nel tentativo di riuscire a muoversi per raggiungere scuole e luoghi di lavoro.